C'è un aspetto in particolare che affascina sempre molto gli psicologi, gli psicoterapeuti, che è quello del linguaggio analogico o linguaggio evocativo, linguaggio dell'emisfero destro, come sto chiamato in diverse situazioni. Cioè quel linguaggio che utilizza molto le immagini, le figure retoriche, le metafore, ma anche gli aforismi, le citazioni, eccetera. È un linguaggio che spesso viene, delle forme cognitive che spesso vengono utilizzate per creare una risonanza emotiva nella persona, se non proprio per far avviare un primo cambiamento percettivo o anche a livello proprio di comportamento. Ora, la cosa più difficile, a mio parere, è proprio quella del riuscire a sapere come costruire un linguaggio comunicativo, efficace, di tipo evocativo. Può andarci qualche suggerimento, magari anche in base a alcune situazioni che tipicamente si ritrovano all'interno della terapia? Sì, parto dalle ultime cose, dalle ultime parole della domanda. E cioè tipicamente nella terapia, e cioè sempre nella terapia, ci si trova a che fare con una persona o più persone che soffrono. Questo è quello che connota la terapia. La terapia è un atto curativo e si cura una persona che soffre. Poi il grado di sofferenza può essere da lieve a gravissimo. L'atteggiamento che deve avere il terapeuta nei confronti della persona è quello che si deve avere nei confronti della persona sofferente. Cioè una situazione che ha del sacro, del sacrale. È una situazione nella quale noi terapeuti ci dobbiamo accostare con estrema attenzione e prudenza. E quindi tutti i discorsi interessantissimi e giustissimi sulla tipologia di frasi, di parole, di comunicazione non verbale che debbono essere scelte e adattate al paziente e quindi un linguaggio da emisfero destro, un linguaggio suggestivo, un linguaggio performativo, eccetera, discendono necessariamente dall'atteggiamento interiore del terapeuta quando si colloca di fronte alla persona che soffre. E questo atteggiamento deve essere di assoluta dedizione e di assoluto rispetto sul piano umano, sul piano etico, sul piano dei valori, sul piano dei principi. Se c'è questo ne scaturisce la capacità di porsi in contatto sul serio con la persona e di ascoltarla sul serio e quindi l'elemento tecnico che può essere veramente coltivato all'infinito perché è un mestiere nel quale non si finisce mai naturalmente di imparare. L'elemento tecnico perde, se vogliamo, di importanza, a mano a mano che assume importanza, a mano a mano che la punta della matita si affila, è importante che ci sia anche la capacità di manovrarla questa matita, cioè sapere dove si deve portare il paziente. Allora chi ha un orientamento strategico sa che lo deve portare verso l'ampliamento delle risorse, cioè l'aumento numerico dei gradi di libertà. Questo è il dogma al quale eticamente noi siamo vincolati. Per fare questo è necessario avere una disposizione tale per cui al paziente in quella singola seduta, in quel singolo momento, si annette tutta l'importanza possibile e anche di più. Se uno ha questo atteggiamento interiore, automaticamente ne discende la capacità di sintonizzarsi con il paziente perché c'è una disponibilità all'ascolto che diventa veramente un diaframma che si amplia tantissimo. A quel punto è facile captare quali sono le cose che risuonano in profondità nel paziente. Quindi diciamo che più che una serie di linee guida o di suggerimenti tecnici su come si possa individuare il linguaggio più adeguato al paziente, dovremo lavorare su quello che precede questo. Cioè consideriamo chi è la persona. E' una persona che sta male e dà a noi la responsabilità di gestire questo male, questa sofferenza. Persona, coppia, persona che parla di altre persone che stanno male, ok, genitori, di minori, eccetera, eccetera. Però è una questione di postura, se vogliamo, esistenziale del terapeuta che viene prima della capacità, dell'abilità nel selezionare le frasi giuste, le modalità giuste di enunciarle, eccetera. Ok, quindi è come dire, tutti sono bravi, possono diventare capaci a imparare delle formule. La disposizione, allora se io sono veramente interessato al paziente, il paziente lo sa, lo sente, lo scopre. Se io simulo un interesse, il paziente se ne accorge all'istante, perché il paziente viene da noi con la pelle scoperta, ha i nervi a fior di pelle, come un sismografo capta, in virtù del fatto che soffre, capta qualsiasi indizio di artificio, allora tutto può essere simulato in terapia e i terapeuti sono anche attori in alcuni momenti, ma l'interesse non può essere simulato, non c'è verso. Allora l'interesse, l'autenticità, e cioè io esisto qui in questo momento per te, questo non può essere simulato. Il paziente se ne accorgerebbe e non ci sarebbe nessuna vera terapia, ci sarebbe l'uso di tecniche. Lo lasciamo ad altre professionalità questo. Fantastico. Una delle difficoltà principali in terapia, o comunque ricorrenti, è il fatto della gestione della cosiddetta resistenza, si affronta alla resistenza, al cambiamento del paziente. Anche qui ci sono delle forme linguistiche, dei modi di porsi a livello comunicativo, che il terapeuta breve può mettere in atto. Io nei suoi libri ho anche trovato degli esempi che lei ha fatto per aggirare, utilizzare o anche prescrivere addirittura la resistenza. A questo punto mi sento anche di dire, posto che la base deve essere quella che ci ha detto precedentemente. C'errebbe se potesse farci qualche esempio di queste forme comunicative in modo da imparare a gestire questi o altri modi in cui la resistenza si interessa. Naturalmente allora stiamo parlando dell'ambito strategico, e quindi Ericsson, Watzlawick, Nardone, il quale si basa, ambito, sul costrutto di tentata soluzione che mantiene un problema, per cui la sospensione delle tentate soluzioni sblocca la situazione problematica e il paziente accede a un numero maggiore di moduli comportamentali. Ma la regola universale per inibire o bloccare le tentate soluzioni è prescrivere il problema. Naturalmente se io mi applico a peggiorare la mia situazione o a indurre deliberatamente il problema, perciò stesso sto sospendendo le tentate soluzioni, e quindi poiché le tentate soluzioni inducono la persistenza del problema, questa decada e il problema scompare. In estrema sintesi, questo è il filone, non è facile naturalmente in pochi minuti suggerire tattiche, posto che questa è la strategia generale, però forse c'è una categoria che merita di essere studiata, ed è una categoria che uso molto spesso e che è molto in linea con il paradosso, perché naturalmente prescrivere il sintomo è un'espressione della logica strategica, che è la logica paradossale. Ludwak, lo studioso, lo stratega politico, spiega bene come la strategia, la logica strategica, cioè la logica che sottende i conflitti tra volontà opposte, sia sempre una logica che si basa sul paradosso, e noi in terapia lo vediamo in continuazione. Ma molto affine al paradosso è un'intera categoria di tecniche o di dispositivi, o di procedure o di espedienti, se vogliamo, ed è quella dell'umorismo, ossia l'induzione di una reazione spassosa, divertita, una risata, un sorriso, come chiave per istantaneamente o in tempi molto rapidi ristrutturare un problema, ristrutturare uno stato d'animo, indurre uno stato d'animo, un'emozione differente da quella che alleggiava nell'aria fino un attimo prima, l'umorismo in tutte le sue varie applicazioni, che naturalmente deve basarsi prima di tutto sulla capacità del terapeuta di ridere di se stesso. L'umorismo non è ridere del paziente o della sua situazione di persona sofferente, l'umorismo però consente di riconfigurare l'importanza dei problemi, di collocarla su uno sfondo più ampio, e lo fa sempre giocando sul filo del paradosso. Non so definire che cosa renda umoristica una cosa, una comunicazione, ci hanno provato in tanti, non sarò di sicuro io, ancora è quasi impossibile dare una definizione di che cosa renda umoristica, una comunicazione, una relazione, una frase, un'espressione, non ci provo nemmeno. Però il potere che una barzelletta, un'allusione, un'espressione, un viraggio istantaneo, uno slittamento lo chiamo io, cioè il passare da un'atmosfera emotiva a un'altra che è incongrua con la precedente, il potere che hanno queste manovre, se vogliamo, è formidabile, perché permette al paziente di rendersi conto che la realtà può essere esaminata, letta, descritta, definita da tantissimi punti di vista, e non dal suo unico, singolo punto di vista, che proprio perché è singolo ed è unico è ciò che immobilizza il paziente. Il paziente è tale perché non riesce a vedere la realtà da altri punti di vista che dal suo. Con l'umorismo si riesce a far vedere la realtà da altri punti di vista. Naturalmente è molto difficile essere umoristici e non significa far battute a caso. E la cosa più difficile forse è il tempismo, cioè il trovare il momento giusto, il ritmo giusto. È come quando si raccontano le barzellette, se una persona sbaglia di un micro secondo la conclusione, la barzelletta non fa ridere. Se un tizio vuole a tutti i costi raccontare una barzelletta e gli altri non hanno voglia, non fa ridere perché è il momento che è sbagliato. Quindi tutto il discorso sulla comicità e sulla comicità in terapia dovrebbe essere studiato dal punto di vista della gestione dei tempi, il timing, chiamano le persone dello spettacolo. La gestione dei tempi, i tempi comici in questo caso, è una cosa che può essere studiata, può essere appresa, studiando i comici naturalmente. Allora, forse questo potrebbe essere... Quindi l'umorismo come muoversi sul filo del paradosso, su quello che è vero ma simultaneamente non lo è. E quindi in violazione dei principi, prima di Aristotele, del principio di identità, di non contraddizione, momentaneamente l'irruzione di una irrazionalità però controllata. Fantastica. Grazie. 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 Grazie.